Ciao a tutti, sono in questo nuovo video, mentre sto vedendo la like e il programma che fanno dopo che però non è che mi sento piacendo troppo, ok, è finita una partita da una quarantina di minuti la partita tra Portogallo e Spagna 3 a 3, una partita interessante con Dio Costa e Ronaldo però Ronaldo diciamo che ha avuto fortuna sia sul primo che sul secondo gol, perché il primo gol l'ho fatto a suo rigore e l'ho fatto a suo rigore, che non era proprio nettissimo, più vedeva anche non dare, non sarebbe stata scandalosa il secondo, il secondo portiere va così per mettersi così, va bene, non riesco a farvelo capire però quando cercano di bloccarla, non gli arriva proprio addosso, però esce, entra in porta e poi l'ultimo invece che comincia è stato il gol migliore, il gol più bello, il gol più, diciamo, aumentato quindi Dio Costa ha fatto due gol bellissimi e Dio Costa, poi pure Nacho ha fatto un altro gol bellissimo e... va bene, intanto c'è Dio Scotti che stanno andando qua comunque, Nacho pure ha fatto un gol bellissimo, tipo quello in Latina in Golan con Liverpool il terzo gol e... e... e che dire che è stata una bella partita a sorpresa il Diran è prima in Girono poi a pari merito Spagna e Portogallo, però non so chi sta prima forse... forse di Portogallo perché mettono di POM come si chiama... come si chiama... prende l'alfabetico forse perché comunque stanno pari con il coseno sono fatto 3 a 3 quindi... forse metteranno il Portogallo prima e... però... però un giro da vedere, da vedere, da vedere con il Marocco a 0 che deve inseguire quindi vedremo, vedremo qual'hanno le prossime questa qui diciamo che era un po' più difficile perché chi dunceva, diciamo, chi dunceva tra le due con le due diciamo che aveva più facilità di passare il girone la prima la prima ecco perché qua sono le due favorite, però vedremo un giro incognita per il momento comunque queste pazze che mi sono piaciute io non potrò vedere le altre se vi porto qualcos'altro perché ho visto i NX perché sto fuori e... quindi non sto non sto in Europa, in Italia quindi... vabbè e... poi vi farò sapere comunque vi terrò aggiornati e niente, quindi siamo a Ronaldo e Diego Costa due capocamaniani insieme a quella uno a un russo non so come si chiama che aveva fatto due gol quindi... subito si comincia bene domani ci sono le sposte di Messi che non so contro che devono giocarsi con l'Australia o con quell'altra squadra del girone e quindi così il mondiale è il congiato migliore dei modi oggi sono finito le partite dei due girone il girone A e B con prima Russia secondo Uruguay terza Egitto quarta e... l'abbia soffita di qua invece prima Iran con a pari merito Portogallo Spagna non so che sta prima dei due comunque due secondi sarebbero e poi quarta in Marocco così comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste partite commentate se volete e iscrivetevi e se vi carico sia il video della partita di prima che chiude questo qui e... se non avete visto quello della partita di prima andatevelo a cercare commentate se volete e iscrivetevi e...